Le cave del marmo di Carrara appaiono a chi vi sia facci una bianca bolgia. Da queste balze vertiginose scendono i massi con cui si ergono i monumenti. Dispensieri di gloria più attuale si sono qui radunati i giudici del premio Viareggio. Flora, De Benedetti, Giacchier, Valeri, Sprana, Bigiaretti, Zavattini, Bais, Pampaloni, Musatti. Voltepelli è sull'auto mentre il carro della giuria è guidato da Repaci. Come il capo cava misura il blocco. Così i giudici esprimono le loro quotazioni su una montagna di libri alzata sin 12 mesi. In una festa notturna termina la crociera letteraria con la proclamazione dei vincitori. Cinque milioni di premi offerti dalla Olivetti di Ivrea ad artisti che scrivono magari con la macchina ma non scrivono a macchina. Primo premio a Carlo Emilio Garda. Secondo premio ad Anna Maria Ortese. Premio Savinio per un saggio a Roberto Battaglia. Repaci si rallegra con Mario Rigoni Sterni cui è toccato il premio Opera Prima. Grazie a tutti.